www.piemontefuturo.it www.piemontefuturo.it Iniziamo la stagione, abbiamo visto in questi ultimi giorni queste piogge che sicuramente creeranno nel territorio tutta una serie di focolai, quindi ristagni d'acqua dove le zanzare nella prima parte della vita possono svilupparsi. E dobbiamo fare molta attenzione anche a casa nostra, soprattutto chi di noi ha dei giardini e degli orti dove spesso lasciamo dei contenitori all'aria aperta che si possono riempire con l'acqua piovana e questi diventano sicuramente dei focolai di zanzare. E' anche un discorso di responsabilità personale, non solo di sanità pubblica perché ognuno di noi può fare qualcosa. Io ho cercato qualche dato e ho chiesto conforto all'IPLA, lo ricordiamo che si occupa proprio del piano zanzare, del piano anti-zanzare in regione Piemonte. Allora se parliamo di aree pubbliche nelle quali si può agire 20% del totale, nel privato siamo al 70-80%, quindi la parte delle onere la facciamo noi privati cittadini anche nell'evitare che poi l'IPLA debba andare a disinfestare ovunque. Allora nel concreto, entrando in casa, lei entra in una casa, quali sono le aree critiche che immediatamente individua? Qualche consiglio che darebbe entrando nella casa di un cittadino? Sicuramente appena entriamo nelle case, soprattutto le case con i giardini, andare come dicevo prima a individuare se ci sono dei contenitori lasciati all'aria e con dell'acqua dentro, perché questi diventano immediatamente dei focolai di sviluppo delle zanzare. Come sappiamo bene, le zanzare la prima parte della vita la svolgono nell'acqua. Quindi questi contenitori per quanto possibile bisogna svuotarli o girarli al contrario in modo che non si riempano d'acqua, fare attenzione anche all'acqua che c'è nei sottovasi, quindi le piante che richiedono dell'acqua così più frequentemente allagata nei sottovasi, svuotarli almeno ogni tre giorni e possibilmente pulire con una spugnetta i bordi. Ecco, lo laviamo anche il sottovaso, magari se ci siamo? Sì, diciamo che… La sciocquatina li laviamo? Sì, esatto, perché soprattutto la zanzara tigre depone le uova sul bordo dei sottovasi che rimangono appiccicate e quindi solo svuotare l'acqua non è sufficiente. Le vediamo queste uova? Sono molto molto piccole, con l'aiuto di una buona lente di ingrandimento si possono vedere questi puntini neri sul bordo dei sottovasi. Qui c'è qualcosa? Vediamo. Qui è un po' difficile vederlo, però questo è già importante, insomma, molte di noi, e mi ci metto, hanno proprio l'abitudine, non di annaffiare, ma di allagare i vasi sui balconi. Quindi questo evitiamo di farlo. Questo bisogna evitarlo. Iniziamo da qua, questo può essere importante. Dobbiamo fare molta attenzione per chi ha la passione di fare, ad esempio, le talee sul balcone di altre piante. Prendiamo, ad esempio, il potos, che spesso uno prende il rametto, lo mette a bagno in una bottiglietta d'acqua e lo posa sul balcone. Ecco, su questo bisogna fare molta attenzione perché quell'acqua dove si fa la talea del potos, ad esempio, può diventare un focolaio. Per quanto piccolo può sembrare, la zanzara tigra è una zanzara che è in grado di colonizzare o nel minimo un ristagno d'acqua. Quindi fare molta attenzione anche a questi piccoli ristagni che possiamo lasciare a casa nostra, anche negli alloggi in città, appunto. Basta un contenitore piccolo lasciato sul balcone che può creare dei problemi. Una domanda banalissima. Un vaso di fiori in casa con dei fiori può essere un ambiente... Se l'acqua rimane parecchi giorni, sì, può anche diventare quello un possibile focolaio, soprattutto per la zanzara tigra. Quindi in questo periodo è bene evitare magari troppi vasi, fiori recisi in casa, può essere un'idea. Esatto, sì. Poi, appunto, conta la sostituzione frequente dell'acqua, quindi se la sostituiamo dopo due o tre giorni, è sufficiente per non avere poi le larme in casa. Altre situazioni che possiamo trovare a casa nostra spesso sono le grondaie sui tetti, che a volte rimangono intasate e queste, ahimè, possono diventare anche queste focolai di zanzara. Quindi bisognerebbe fare una manutenzione abbastanza oculata delle gronde, perché a volte il ristagno di acqua che c'è nella gronda diventa un focolaio e quindi noi non troviamo focolai in giro nel giardino, ma sul tetto. Quindi anche su questo bisogna fare abbastanza attenzione. Questa è un'immagine che abbiamo visto emblematica, con le foglie che vanno intasare magari lo scarico, si crea dell'acqua, un ristagno e da lì ci troviamo poi le zanzare in casa. Ecco, francamente sulla gronda ad esempio non ci avrei mai pensato, ecco poi esistono anche dei sistemi per evitare l'accumulo di foglie. Esatto, esatto. Si può anche in qualche maniera, diamo anche qualche consiglio pratico, cercare in qualche maniera quantomeno di ovviare a questi problemi. Sfatiamo un mito oppure lo andiamo a confermare? Alcune piante officinali, i gerani, i famosi gerani. Arrivo lì, arrivo i gerani. Servono o no? In questi anni, a parte i famosi gerani, più altre. Di tutto, dal basilico, di tutto. Però facciamo parlare le persone titolate, anche gli scienziati che si occupano di questo. Servono o no? Ahimè poco, perché bisognerebbe vivere sotto una foglia di basilico ad esempio. O spalmarsi il basilico addosso. E non sempre funzionano. Sono state sponsorizzate anche nuove specie, tipo la catambra, il passato, che è una pianta arboreo-arbustiva, ma chiaramente non hanno questa efficacia. Anche perché è un po' impegnativa a livello anche di dimensione. In un alloggio non la vedo così congeniale. E comunque il respiro che noi emettiamo riesce a trarle, quindi gli oli essenziali di una pianta sopra, così non contrastano poi quello che emettiamo noi. Ah ecco, questo è interessante. Quindi proprio l'umidità del nostro respiro attira le zanzare. Esatto, la CO2 che noi emettiamo, tant'è che le trappole che noi mettiamo in giro per il territorio piemontese replicano il nostro respiro. Mettiamo dell'anidride carbonica congelata, che quindi sublima, cioè passa dallo stato solido a vapore e simula il nostro respiro. Le zanzare sono attratte da questa CO2, noi le raccogliamo e finiscono poi per l'indagine sia sul numero di zanzare che circolano e poi per le indagini virologiche. Ecco, questa che vediamo è una classica trappola nostra, cioè un termos. Come funziona? Perché se le vediamo in giro almeno sappiamo anche di cosa si tratta, lo spieghiamo ai cittadini. Esatto. Questo è un parco giochi classico, mi pare di tenere. Esatto, noi queste trappole le mettiamo in giro per tutto il Piemonte, sono costituite da un semplice termos, che è quello dove d'estate mettiamo le bibite da tenere fresche, lo riempiamo di, come dicevo, ghiaccio secco. Il ghiaccio secco non è altro che anidride carbonica congelata, quindi da un buchino sotto questa anidride carbonica esce e simula il nostro respiro, c'è una ventola che aspira le eventuali zanzare che si sono avvicinate e le fa cadere nel retino che vedete. Il retino poi viene preso il mattino successivo e le zanzare sono sottoposte poi all'indagine. E questo è importante, quali informazioni traete, vabbè immagino la specie, ma cosa vi serve anche sapere con quali zanzare abbiamo a che fare a livello proprio scientifico? Beh, soprattutto ci sono zanzare che sono in grado di trasmettere alcune malattie e altre invece che sono solo un fastidio. Attualmente questa rete di monitoraggio che abbiamo in giro per il Piemonte è molto ampia, gran parte serve per guardare il numero di zanzare e le specie di zanzare. Un'altra parte invece vengono catturate queste zanzare, portate nel laboratorio Ipla e vengono preparate per l'indagine virologica, cioè facciamo l'indagine sugli individui di zanzare per vedere se contengono i virus che possono essere trasmessi da loro. Nella fattispecie in Piemonte il virus che può essere trasmesso da zanzare comune è West Nile e quindi noi ogni settimana portiamo queste zanzare all'Istituto Zooprofilattico di Torino per l'analisi virologica, per vedere se c'è circolazione virale all'interno del nostro territorio. Nel caso fate segnalazioni attivate immagino immediatamente anche dei sistemi di protezione sanitaria della regione e della popolazione. Esatto perché c'è un protocollo regionale che serve appunto a tutelare i cittadini sulla diffusione della West Nile, quindi nel caso noi rileviamo delle zanzare positive a West Nile scatta immediatamente l'analisi del virus sulle sacche di sangue per le donazioni. Ah ecco, interessantissimo questo, quindi ecco pensiamo, non ci pensiamo, però questo è un altro dato importantissimo, andate immediatamente a capire che non ci sia nessun tipo di contaminazione. Esatto, esatto, perché se iniziamo a vedere dalle zanzare circolazione virale, allora a quel punto vengono fatte le analisi sulle sacche di sangue per essere assolutamente certi che il virus non venga trasmesso ai pazienti. Ecco, pensate, siamo partiti da una zanzara che vuole e ci dà fastidio e siamo arrivati in ospedale addirittura alle donazioni. Ecco, questo è importante capire anche quale rete stia intorno alla protezione sanitaria ed epidemiologica della popolazione di cui Ipla si occupa nella fattispecie per il progetto anti-zanzare. Il tempo è finito ma ci ritroveremo per parlare ancora di tantissimi altri argomenti. Io ringrazio Paolo Roberto, responsabile progetto lotta alle zanzare appunto di Ipla. Grazie davvero e arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti.